Ma pinnoace, un vistimento è come la putia per l'esposizione. Uno taglia la tabella, vire l'esposizione, e si dopo accatta. Se ne vanno levare la tabella, come finisce lo commercio. E questo è un pezzo della cortigiana, scritto da Irene Abate, che interpreta nella Cappella delle Repentite per le vie dei tesori 2022. In questa cappella venivano sepolte, mummificate, le suore che prima erano state le cortigiane, o come si diceva allora, delle bagasce. Un altro dei personaggi che interpreto, divertendomi molto, e quindi ringrazio anche i vie dei tesori per l'accoglienza e l'ospitalità, è Zia Mimmi, che è morta a 101 anni a Villa Pottino. Poi la Marchesa Dulcio Ragnello, nelle carceri dell'Inquisizione all'Osteri, era una Marchesa ed era moglie di uno informatore del Sant'Uffizio. Quindi diremmo una raccomandata, che quindi poteva permettersi cura di bestemmiare, entrava e usciva, perché la rilasciavano subito dopo. E poi c'è anche la Margheritina, la moglie di Peppe Schiera, poeta di Piazza Palermitano, che è morta sotto i bombardamenti del 43 qui a Palermo. E poi c'è Lucy, Lucy che visse col marito Vincenzo Florio, un cognome che ci dice molto molto tutto da scoprire, da raccontare e da ascoltare, alla Villa I Quattropizzi all'Arenella. E' bestemente di regina e quanti insegnamenti. Prima di tutto mi insegnò a banciare e a pevere e a schifiare le cose. Brava, mi diceva così, i grandami schifiano. E io schifiava, chi ci vuole, quando si può fare. E sono questi i cinque personaggi che vi aspettano, interpretati da me per le vie dei tesori, in tutti questi fine settimane, sabato e domenica, insieme a mille esperienze. Io mi troverete, basta consultare la guida, vi aspettiamo.